Eccoci qui, parliamo ancora di improvvisazione grazie all'associazione culturale Cambinscena e a Silvia Carneo che si occupa dell'ufficio stampa ma che sale anche sul palco e che è biotecnologa naturalmente, io ho cercato di storcere anche a lei delle informazioni, per dire abbiamo avuto un'archeologa, una biotecnologa, tu come sei arrivata? Io conoscevo delle persone che facevano improvvisazione e quindi mi parlavano di questa improvvisazione, la prima volta che ho visto uno spettacolo mi sono letteralmente innamorata, ho detto wow questa cosa è fantastica da provare e quindi mi sono iscritta e quando ho cominciato ero, cioè io non potevo neppure guardarlo al palco perché veramente mi chiedevo ma perché dobbiamo salire là sopra? E poi ho avuto degli insegnanti spaziali che veramente, ma lo fanno con tutti, sono veramente meravigliosi perché riescono proprio a tirare fuori tantissimo per cui sì Questa cosa dell'improvvisazione ha dato qualcosa anche a te, magari nel lavoro piuttosto che nel... Certo, certo, no assolutamente, sicuramente acquisisci una prontezza di riflessi che prima, parlo per me, non avevo ed inoltre è una maggiore apertura, un maggiore ascolto un po' a tutto quanto Effettivamente, e poi ti apre proprio come persona nelle relazioni Magari cogli delle cose che... Assolutamente Che prima non riuscivi a cogliere o forse non volevi, no? Cogliere Sì, di contro c'è da dire che magari ogni situazione che succede, il retro pensiero... Ti viene a improvvisare qualcosa Parte, non ci potrebbe, però... Sì, sì, no è molto... Un po' di formazione, no? Capita anche a noi purtroppo ogni tanto, ma nel nostro caso forse è un po' più pesante, meno leggero insomma che nel vostro Comunque a parte questo, voi organizzate, naturalmente abbiamo parlato dei corsi, abbiamo parlato degli spettacoli, anche dei raduni Sì, certo Dove tutte queste persone, e appunto non sono poche, ne abbiamo viste anche in televisione recentemente, si trovano e lì che cosa succede? Ci sono le associazioni un po' di tutta Italia Sì, allora Cambiscena, come altre in Italia, affiliata a Impro Teatro, che è l'associazione nazionale di improvvisazione teatrale Vengono organizzati dei raduni a livello nazionale, in cui ci si trova con i vari allievi da tutta Italia Quindi a livello culturale e umano è uno scambio incredibile Soprattutto perché ci si trova a lavorare con gente che non solo non si è mai vista, ma anche appartiene a realtà differenti Quindi questa cosa è molto molto costruttiva I raduni più importanti sono sicuramente quello di Piombino, che c'è ad inizio anno Ed è, sono cinque giorni, in cui siamo quattro, cinquecento persone in un villaggio appunto a Piombino in Toscana E ci sono per tutta la durata di questo tempo stage tutti i giorni In realtà si sceglie un unico stage e ogni giorno si fanno sei ore di lavoro su questo stage Quindi con gente diversa, con professionisti che possono essere italiani o anche internazionali E i corsi non sono solo di improvvisazione teatrale, ma anche di teatro in genere E con l'accezione teatro può spaziare dall'uso della voce all'uso del corpo A magari un teatro di qualsiasi tipo, non so, del clown, piuttosto dell'assurdo Quello che è insomma, ci sono varissime, c'è molta offerta Professionisti di gran nome, quindi si impara tantissimo e si condivide tanto Perché si è tutti insieme, ogni sera c'è uno spettacolo, poi si balla tutti insieme, si gioca E' davvero molto molto bello Un altro raduno per esempio è a Chianciano per primi e secondi anni Che viene fatto tra maggio e giugno In cui appunto sono i primi e secondi anni in particolare Poi ci sono diversi raduni amatori, ce n'è stato appena uno a Tolfa Roma E poi anche in Salento ci si riunisce una settimana in Salento E la formula è sempre corsi per tutte le giornate Però anche con una buona parte di tempo libero in Salento in particolare Serve anche per confrontarsi con gli altri E tra l'altro voi in qualche modo siete legati al Teatro Amolla Sì, loro sono la nostra direzione artistica Loro sono di? Di Bologna Di Bologna Sono un gruppo di professionisti di Bologna E sono appunto, loro ci insegnano Quindi sono sia parte del corpo insegnanti Sia sono la nostra direzione artistica E quindi si occupano di quella che è la scelta per esempio Di chi andrà ad improvvisare, la cura degli spettacoli e quant'altro Insomma Quindi sì, noi siamo molto legati a loro Ma cosa possiamo dire a chi magari pensa che Non so, che magari organizzare uno spettacolo come il vostro Tutto sommato sia meno impegnativo Perché non essendoci la scenografia Non essendoci, che ne so, i costumi Non essendoci un copione Allora È vero o no? No Infatti adesso vorrei vedere la faccia del nostro presidente Che è quello, colui che si occupa Che si chiama, così lo citiamo Paolo Facco Che è colui che in particolare si occupa dell'allestimento di tutto ciò che è la tecnica Anche la tecnica è improvvisata Nel senso che le luci, i bui, la musica è tutta improvvisata Quindi anche quella è parte dello spettacolo Però ti assicuro che nel montare i fari, le inquadrature Non le inquadrature, i puntamenti e quant'altro C'è un'attenzione Cioè devi già immaginare che cosa potrebbe succedere In realtà si scelgono dei punti del palco Che possono essere dei punti del palco adatti alla scena Indipendentemente da che tipo di scena sia In modo tale da creare punti di luce Da poter essere poi sfruttati combinando i vari punti di luce per esempio Però in questo c'è un'attenzione incredibile C'è anche molto lavoro Tant'è vero che per uno spettacolo lo staff si riunisce alle due del pomeriggio Per uno spettacolo che c'è alle nove e mezza di sera Ma e per la musica come fate? Perché appunto puoi seguire l'improvvisazione Allora per la musica ci sono Spesso è musica dal vivo no? Sì 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 Forse avete anche delle base Allora o appunto abbiamo musica dal vivo Con un musicista che improvvisa per noi Improvvisa sulla base di quello che vede E wow nel senso che effettivamente uno si immagina al suo posto Io credo che più riguarda la tastiera Oppure magari nel caso in cui non ci sia il musicista La tecnica ha magari delle tracce Ha n tipi di tracce che può decidere di usare o meno a seconda della scena che vede A seconda del momento e quant'altro Ho una curiosità Come vedono magari i professionisti di un altro tipo di teatro Il teatro di improvvisazione? Beh dipende in realtà nel senso che noi per esempio collaboriamo con altre realtà Che fanno teatro di testo e c'è moltissima stima reciproca Perché se è fatto bene è veramente bello C'è anche chi magari è più tradizionalista senza nulla togliere Però magari preferisce il teatro di testo Per cui magari non vede l'improvvisazione come qualcosa diciamo di così Che magari lo emoziona Che crea flat Esattamente Però in realtà insomma credo che dipenda insomma dai Ci sono anche corsi per bambini Oppure diciamo che l'improvvisazione è più per una fascia Abbiamo sentito insomma da 18-19 anni in su Allora sicuramente anche per bambini Però nel caso di cambiscena in realtà i corsi sono per persone dai 18 anni in su Però non è escluso Anzi secondo me dovrebbero cominciare Perché è sicuramente molto un bello strumento Cambiscena perché? Cambiscena perché è una delle tecniche che sono usate in teatro Il cambio scena è quando una scena cambia Da una scena se ne viene a creare un'altra Oppure una scena viene tagliata e se ne instaura un'altra Quindi è una delle tecniche teatrali decisamente più utilizzate Quindi è quindi così Allora i corsi durano abbiamo visto ci sono almeno tre anni no? Sì Tre anni di scuola Nel senso che si allievi primo, secondo, terzo anno Quando si entra negli amatori quindi dopo il terzo anno Lì c'è gente che ha diversi anni di improvvisazione alle spalle Di sicuro un minimo di 3-4 E dopo c'è anche chi ne ha ben di più Che però confluisce in quello che è il gruppo amatori Ma può diventare una professione? Sì, certo Ci sono per esempio in Cambiscena Ci sono dei professionisti che sono partiti dall'inizio E devo dire che sono veramente molto bravi Non tutti chiaramente ce la fanno Insomma però qualcuno sì Qualcuno sì Che è particolarmente bravo sì Bene Oppure si può fare come vuoi fare insomma un po' l'archeologa Un po' l'attrice Un po' l'abbiotecnica Esatto Bene allora grazie anche a Silvia Carni Grazie Per l'associazione culturale Cambiscena Noi lasciamo spazio ora invece a un'altra parte di trasmissione In conduzione però c'è Alessandra Mercanzin Che parlerà di motori e lo farà con un esperto Grazie intanto per aver seguito questa parte di Sette in Pugno Grazie a tutti Grazie a tutti